amici sono liz attenzione in autunno io ci sarò e voi ci sarete il mio salotto sarà a casa vostra sarà il vostro salotto su one tv vi raccomando perché ne vedrete delle belle con tanti soldi a tanti personaggi e perché no proprio tu si dico a te che sei seduta adesso su quel bel salotto sarai e potrai essere la protagonista del salotto edilizia quindi vi raccomando su one tv il salotto edilizia questo autunno